Lui pare avesse sempre respinto le accuse ma ora l'ex marito della 52enne di Sant'Elena, vittima giovedì sera di una aggressione con l'acido sotto casa, è indagato per l'ipotesi di tentata deformazione dell'aspetto di una persona mediante lesioni permanenti al viso. Indaga la procura di Rovigo. Appena fuori dal condominio alla periferia di Sant'Elena dove la signora viveva da pochi anni restano i segni del gravissimo agguato sulla porta e sul marciapiede. La donna stava passeggiando quando all'improvviso qualcuno le ha gettato della sostanza corrosiva addosso e poi è fuggito. Le ferite riportate dalla 52enne subito curata dai medici del 118 avvisati dai vicini che avevano sentito le sue urla sono state ritenute guaribili in 60 giorni. Fortunatamente mani e viso erano coperti da sciarpa e guanti e le parti colpite sono state pochissime, si parla allora di alcune abrasioni oculari. Fin dall'inizio l'ex compagno della donna aveva respinto tutte le accuse fornendo anche un alibi. Al momento dell'aggressione avrebbe detto ai carabinieri che sarebbe stato in casa della madre di non sapere nulla, di non essere stato lui ad aggredire la sua ex. Sembra che i rapporti tra la donna e l'ex compagno si fossero interrotti da almeno cinque anni e da allora non sono mai stati buoni. Una ventina di giorni fa inoltre l'auto della donna era stata bruciata.